è davvero un'emozione per me vedere qui i malati che oggi sono accolti qui in quest'aula l'obiettivo è che la malattia di Huntington non sia mai più nascosta senatrice grazie per aver accettato la nostra intervista Elena Cattaneo, milanese, scienziata, farmacologa e senatrice a vita della Repubblica dal 30 agosto del 2013 era piena estate quando le arrivò la chiamata dal Quirinale l'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano aveva deciso la professoressa Elena Cattaneo diventava senatrice a vita della Repubblica Italiana qual è il suo primo pensiero quando ricevette questa comunicazione e questa telefonata? la telefonata diceva semplicemente che il presidente Napolitano desiderava incontrarmi a Roma ma già questa fu una sorpresa enorme non riuscivo a trovare una motivazione per questa chiamata che arrivava da così in alto e poi quando venne il momento dell'incontro insomma lì fu tutta un'emozione, una sorpresa iniziò il presidente a parlare, quindi entrai nel suo studio lì al Quirinale e ricordo come fosse ora che cominciò a parlare dei padri costituenti e io che sono biologa, che mi occupo di cellule, che insomma studiamo una malattia del cervello era tutto come se non fosse una scena che poteva appartenermi ma che ovviamente veniva resa reale dalla grande figura del presidente e arrivò a parlare della Costituzione, dei senatori a vita e ricordò che avevamo appena perso Rita Levi Montalcini e a un certo punto lui disse ho deciso di nominare i nuovi senatori a vita e ho deciso di pensare a una scienziata quindi ricordo che coniugò al femminile che sia ancora attiva in laboratorio e fuori dal laboratorio e disse e ho pensato al suo nome cosa ne pensa? E la risposta? Ci fu silenzio ci fu silenzio per qualche minuto perché appunto è stata un fulmine un fulmine io non riuscì a mettere insieme una frase di senso compiuto ho cominciato a balbettare e ci fu una famosa battuta, frase del presidente napolitano mi toccò il gomito e mi disse professoressa le faccio portare un cordiale una senatrice a vita, un senatore a vita così giovane non c'era mai stato nella Repubblica Italiana e quindi una grande soddisfazione ma anche una grande sorpresa un grande peso di responsabilità sì perché non potevo immaginare ovviamente di interrompere la mia vita di ricerca e lo stesso presidente siccome la mia prima risposta fu sarebbe un onore ma fu lui che mi aprì un po' la finestra che spalancò che accese una luce su come poteva essere la strada perché lui disse l'ultima cosa che voglio è togliere una risorsa alla ricerca quindi continuare a far ricerca dentro il laboratorio che io ho sempre inteso come un lavoro fatto per coloro che stanno fuori dal laboratorio con questa straordinaria possibilità di contribuire a portare alla voce della ricerca quel metodo nelle nostre aule parlamentari e da quel momento ecco ancora oggi sto cercando di capire come adoperarmi al meglio per il Parlamento e per il Paese La prima volta che ha varcato la soglia di Palazzo Madama qual è stata l'emozione? Quella che sento ancora adesso perché quei luoghi io li ho sempre visti e pensati e immaginati come i luoghi sacri del nostro Paese insomma lì si compiono le scelte che possono fare molto bene o molto male al nostro Paese i cittadini quindi l'idea di varcare quella soglia di essere lì in prima fila perché i senatori a vita sono in prima fila ad aiutare, a vigilare, a prestare le proprie competenze è un impegno che si rinnova tutti i giorni è un senso di rispetto infinito e di gratitudine anche per coloro che sono venuti prima di noi e ci hanno consegnato questo Paese con la sua libertà da difendere ogni giorno e io voglio fare la mia parte ed è quindi con la dedizione della neofita ma anche della persona che non può essere ascritta ad alcun partito e a calcoli politici che lavorerò insieme a voi per valorizzare nella discussione politica e a beneficio del Paese l'uso delle prove, delle fonti, della logica il richiamo ai fatti e alle esperienze alla fine il mio voto manifesterà nelle modalità che riterrò appropriato il mio punto di vista di scienziato ed è con questa disposizione d'animo che seguirò con voi i lavori dei prossimi giorni Grazie Senatrice, ma come è cambiato la sua vita essere senatrice della vita della Repubblica? La resa più efficiente ancora più organizzata con delle straordinarie opportunità di imparare tantissimo anche dal Parlamento dal modo di lavorare appunto in Senato ho cercato di organizzarmi insomma prendendo spunto da come si lavora in laboratorio in laboratorio lavori con una squadra tu fai ricerca con una squadra hai la tua rete di studiosi anche fuori dal laboratorio e quindi ho cominciato a reclutare persone, collaboratori che lavorassero con me in questo ufficio bellissimo e ora sono in tre oltre a me ed è una squadra molto valida funziona funziona e con una bellissima rete di colleghi e di insomma persone pronte a contribuire al lavoro che svolgiamo che è svolto nell'unico veramente nell'unico interesse del paese e la cosa bella è che la scienza possa entrare direttamente nei luoghi legislativi possa entrare direttamente al Palazzo Madama attraverso una senatrice a vita nominata per alti meriti scientifici ma senatrice come interpreta il suo dopo ruolo di scienziata e senatrice li considera entrambi in carichi a vita? per me è lavoro a vita io mi vedo su questo fronte che è il fronte dell'impegno per gli altri per sempre io spero di esserci per sempre ecco fino all'ultimo istante vorrei poter lavorare per il mio paese ecco questo doppio incarico spero che me lo consenta per tanto tempo come valuta il panorama scientifico italiano cosa dovrebbe cambiare nel mondo della ricerca forse qualcuno dice servirebbero più fondi è vero oppure no secondo lei il panorama scientifico italiano mi viene da dire da usare una sola parola è miracoloso perché che possa stare in piedi che possa sviluppare raggiungere le conquiste che raggiungiamo soprattutto in alcuni settori è davvero indice della passione dell'amore del fatto che nessuno si ferma nessuno si tira indietro sono però isole queste sono isole felici che danno l'idea insomma di cosa può fare la ricerca italiana ma le isole non bastano la ricerca ha bisogno di un piano a lungo termine ha bisogno di una lungimiranza politica perché le idee non vanno avanti a intermittenza servono anni serve un impegno dedicato ma la mia preoccupazione maggiore è che la mancanza di sguardo e di luce accesa sull'innovazione sulle idee alla fine affievolisca le passioni e quando si riducono le passioni si riduce il senso della propria responsabilità sociale quindi l'investimento in ricerca serve non solo per quelle idee ma per alimentare il coraggio la voglia di fare per il proprio paese e l'entusiasmo secondo lei una interazione una sinergia con il mondo del privato il privato potrebbe fare di più per la ricerca scientifica sicuramente sì ma le forme si sviluppano cammin facendo diciamo che non c'è limite a quello che si può realizzare con le idee e con le competenze l'unico limite è davvero nella nostra immaginazione e nella possibilità di realizzarle secondo lei la politica è interessata alla scienza è una domanda che mi pongo continuamente non in modo sufficiente non in modo continuativo anzi direi sì in modo frammentario senza un programma ecco il fatto di non avere un piano globale che riguarda tutta la ricerca a partire da chi vuole decifrare le scritture antiche che è tanto importante quanto studiare aspetti di geologia del terreno piuttosto che di biomedicina quindi io ecco non vedo questo interesse perché se no se ne parlerebbe tutti i giorni perché da lì da quelle conquiste tu disegni il futuro ma la vista e la visione è troppo limitata ecco lo sguardo politico a prescindere dai governi io penso negli ultimi decenni con ovviamente le solite valide importanti eccezioni è sempre molto ridotto un ministro scienziato come lo giudicherebbe beh ne abbiamo avuti di ministri con competenze nel settore penso che possa fare bene potrebbe anche non essere così cioè l'importante secondo me è che i governi e i ministri si attrezzino quindi avere dei consiglieri scientifici avere dei punti di riferimento affinché quando poi si devono prendere decisioni che siano di governo o di parlamento insomma non si cada nelle trappole e ne abbiamo avute pensiamo a Xylella ha distrutto piantagioni di olivi che sono distrutti per sempre questo per non essere state in grado di decidere forti delle competenze e forti delle prove quel che la politica doveva decidere che era in quell'area in quel punto l'eradicazione come gli studi mondiali ci indicano ecco questo è un esempio di come si possa andare verso strade che poi casano dei danni enormi a tutto il paese certo senatrice ma veniamo un po' alla sua attività alla sua storia di scienziata da oltre 20 anni lei dedica il suo lavoro la ricerca scientifica di altissimo livello a combattere il morbo di Huffington una malattia terribile che colpisce in particolare l'America Latina ma anche il nostro paese ma a che punto è la ricerca in Italia si sta facendo tutto quello che si poteva fare o si dovrebbe fare di più la cosa straordinaria della ricerca è che va sempre avanti non va mai indietro ogni giorno c'è un pezzo di conquisto un pezzo di strada fatta questa è una malattia difficile come tante altre malattie questa è una malattia neurodegenerativa muoiono neuroni nel cervello sappiamo la causa è un gene quel gene mutato causa la morte di questi neuroni e quindi ecco questi movimenti si chiama corea dal greco danza cosa stiamo facendo su questa malattia beh ogni ricerca è in campo c'è una strategia che sembra dare dei risultati importantissimi c'è una prima sperimentazione clinica in corso la seconda fase clinica verrà saltata addirittura perché insomma la speranza le indicazioni sono interessanti non dovesse funzionare ce ne saranno altre ma questa è la strada da seguire insomma comunque non si lascia nessuna strada intentata per i nostri malati e sono veramente tanti diverse migliaia in Italia sono diverse migliaia negli Stati Uniti in altre aree del mondo e ci sono poi luoghi come l'America Latina Venezuela e Colombia dove abbiamo dei veri epicentri di malattia con magari villaggi di 10.000 persone e 4.000 hanno la malattia questo perché lo stigma la discriminazione verso coloro che ci sembrano diversi ha segregato queste persone dalla società dalle città e si sono riunite in questi villaggi sposate tra loro e ci sono queste genealogie enormi di famiglie insomma devastate dalla malattia ci fu una nostra richiesta iniziale una lettera che mandammo a Papa Francesco pensando proprio a quei malati venezuelani e la lettera aveva come oggetto la richiesta di un'udienza per un malato venezuelano in rappresentanza dei tanti malati di quei luoghi del mondo sperduti e disconosciuti e che ancora oggi sono in tragiche situazioni ma anche in rappresentanza dei tanti malati del mondo affinché sia data loro questo diceva la lettera dignità e speranza se riducesse lo stigma e la discriminazione e la risposta di Papa Francesco fu fenomenale la risposta fu perché abbracciarne uno solo perché non abbracciarli tutti e da quella risposta quindi nacque questo movimento che abbiamo chiamato Hidden No More mai più nascosta che portò a Roma centinaia di malati dall'America Latina dal Venezuela dalla Colombia abbiamo organizzato tutto e non avevano neanche i passaporti uscivano da quei villaggi per la prima volta per arrivare a Roma per arrivare dal Papa e a loro si unirono migliaia di altre persone ricercatori studiosi familiari famiglie da 26 paesi nel mondo e il 18 maggio 2017 vendero in Vaticano per celebrare questo momento e il Papa è stato il primo leader mondiale ad accendere la luce sulla disperazione ma anche sulla dignità di queste persone che sono arrivate qui a Roma e non solo sono arrivate a Roma e sono state in Vaticano la Papa Francesco ma il Presidente Grasso volle incontrarli qui in Senato e aprì le porte del Senato per loro e ancora oggi ecco questa immagine di queste persone davvero gli ultimi degli ultimi vien da dire in prima fila davanti al Papa e in prima fila nel nostro Senato della Repubblica ecco fu una settimana meravigliosa cosa ricorda degli occhi di questi ultimi di queste persone sembrava quasi che venissero qui a dare coraggio a noi e devo dire che ricordo anche il timore che saremmo tutti avremmo tutti sentito una grande desolazione durante quelle giornate sapendo che molti di loro non li avremmo più rivisti perché la malattia se li prenderà e invece devo dire che quella settimana quelle giornate sono state la celebrazione della speranza e la celebrazione della solidarietà del prenderci cura uno dell'altro ed è una cosa insomma un sentimento che che faccio mio che voglio fare mio in tutta questa mia doppia vita noi non li abbiamo abbandonati noi non li abbiamo dimenticati quei malati siamo stati in colombia sono andata da loro a trovarli perché questi fili che si sono tessuti qui in italia qui a roma con il nostro senato con il papa con l'incontro in vaticano sono fili che per quanto flebili esistono e li vogliamo consolidare proprio in questo momento pensi che una persona del mio laboratorio è in venezuela sul lago maracaibo in quei villaggi perché quei fili vanno alimentati quindi noi diciamo che abbiamo un corso un nuovo esperimento un po' scientifico un po' medico molto umanitario da qui tutti noi possiamo fare davvero molto essere un moltiplicatore di speranza perché nel mondo il prima possibile lo stigma della malattia nascosta non sia altro che un lontano e brutto ricordo grazie senatrice ma qual è il suo sogno per il futuro come ricercatrice e qual è il suo sogno istituzionale come senatore vita della Repubblica come ricercatrice è difficile aver sogni perché insomma il ricercatore deve essere concreto e molto aderente alla realtà quindi forse direi ho uno scopo o un desiderio ecco il desiderio è che la scienza la conoscenza possano sempre più diventare degli alleati per la crescita delle nostre società e la nostra crescita umana e come membro della nostra più alta istituzione mi viene da dire la speranza che le competenze vengano sempre più viste per il loro giusto ruolo e la loro giusta utilità come diventa scienziata la senatrice a vita Elena Cattanea quando è che ha deciso di diventare farmacologa e non professoressa di filosofia come è successo nella giovinezza non c'è stato nessun lampo e non credo di essere nata scienziata la cosa bella è che è stato un percorso un cammino passo dopo passo molto fisiologico molto normale un'attrazione come insomma tanti dei nostri giovani possono sentire o possono avere mi viene da dire che si lasciano attrarre passo dopo passo per accorgersi che insomma entrare in un laboratorio per studiare l'invisibile sapendo che ciò che conquisti è qualcosa che non era mai stato visto prima da nessun altro uomo al mondo è una soddisfazione enorme sapere che lo conquisti perché ci sono le idee di tanti che si mettono insieme che si confrontano a livello internazionale al punto che alla fine non sai neanche più di chi era all'origine no l'idea e poi ovviamente se lavori nell'ambito della biomedicina e capisci quando capisci che quel che studi che quel pezzo di conquista è un passo avanti no verso l'ottenimento di una cura beh insomma quella miccia che si è accesa non riuscirai mai più a spegnerla i giovani di oggi secondo lei hanno le stesse opportunità della giovane studentessa Cataneo le opportunità grandi o piccole stanno in mezzo a noi di fronte a una domanda del genere mi viene da dire che opportunità aveva Rita Levi Montalcini quanto difficile fu la sua vita quanto difficile è stata la vita dei tanti studiosi dei tanti intellettuali che ci hanno preceduto quindi mi viene da dire insomma tutti noi incluso i giovani di oggi nasciamo in un paese libero in un paese che ha tantissimo a disposizione grazie a quel che c'è stato prima il nostro mezzo bicchiere è già pieno mezzo bicchiere è già pieno senza che noi abbiamo fatto nulla per meritarcelo quindi mi viene sempre da dire dobbiamo rimboccarci le maniche per riempire l'altra metà quindi creiamole studiamole troviamole le opportunità nessuno si fermi c'è spazio e speranza per tutti e laddove gli spazi si costringono diventano troppo piccoli beh alziamoci in piedi giovani inclusi per dire la nostra e pretendere quegli spazi di libertà che sono un diritto sancito dalla nostra Costituzione facciamolo per noi e facciamolo per tutti gli altri dovrebbero essere alleate scienza e politica l'una a cercare i fatti l'altra la politica ad acquisirli per poi partire da lì per discutere dei valori sociali economici o etici associati a quei fatti e quindi legiferare e i cittadini resi consapevoli e informati a fare da sentinella e a controllare la validità di quelle scelte questa è per me l'ultima parola della politica che torna la politica è per me Grazie a tutti.